Quest'anno la giornata dell'Europa accade a un mese esatto dalle prossime elezioni europee. Quali sono oggi le priorità di un'Europa giusta? Sicuramente la pace, che è qualcosa che in realtà da vari mesi, vari anni manca in Europa. Per quanto riguarda l'istruzione, che è quello che riguarda noi più da vicino, la possibilità di accesso alle varie istituzioni per tutti gli studenti in maniera equa. In che modo l'Università, e in particolare l'Università di Foggia, si inserisce in questo filone? Noi puntiamo molto sull'internazionalizzazione e cerchiamo di far integrare il più possibile non solo gli studenti Erasmus, che arrivano da noi sempre più numerosi, ma anche gli studenti stranieri che si iscrivono all'Università per frequentare tutto il corso accademico, i tre anni del corso di laurea. Quindi cerchiamo di fare in modo che si sentano integrati e riescano ad integrarsi sotto tutti i punti di vista.